Este è a metà strada tra Rovigo e Padova e ha oltre 16.000 abitanti ed una storia molto antica. Ateste era il nome della colonia romana del III secolo a.C. Il nome di Ateste derivava infatti dal nome latino del fiume Adige, Atesis, che fino al VI secolo d.C. attraversava il paese. Ancora oggi gli abitanti sono chiamati Atesini o Estensi. Dal feudo di Est derivava la famiglia che dal 1208 al 1598 avrebbe detenuto la signoria di Ferrara. Sarebbe bello poter discorrere del duca Alfonso o del cardinale Ilpolito d'Este, ma non è questo lo spazio opportuno. La storia calcistica di questo, ci occuperemo, inizia nel 1920 per la volontà del Cavaliere Domenico Meneghello, con il nome di Unione Sportiva Estense. Non sempre però la squadra troverà le risorse per iscriversi al campionato di terza divisione Veneto. Il 29 giugno del 1944, alla fine di un amichevole con il Venezia, quella che doveva essere un'occasione di festa, si trasformò in uno dei momenti più bui della sua storia e forse della storia calcistica mondiale, quando cioè fascisti e nazisti organizzarono un rastrellamento a sorpresa. Nel 1960 e il 1961 fu sfiorata la prima promozione in Serie D, dopo la doppia sconfitta contro l'audace San Michele Extra, squadra veronese che era stata anche di Mario Corso, famoso centrocampista dell'Inter di Elenio Herrera. La storia dell'Este cambiò quando nel 1995 il dottor Donato Romano, divenne presidente dell'Associazione Calcistica Este, ottenendo il passaggio in promozione nel 98-99, in eccellenza nel 2001-2002 e finalmente in Serie D nel 2004-2005. In quell'anno vince il torneo di eccellenza Veneto con 64 punti e con 4 punti di vantaggio sul Casa Leone, conquistando i punti decisivi l'8 maggio contro il Lugagnano, con un calcio di punizione dal limite al 92esimo di Andrea Buganza. Nel primo anno di Serie D Romano lascia la carica a Renzo Lucchiari. Nei dieci anni di Serie D il miglior risultato è stato il secondo posto del 2009-2010 nel Girone C, poi eliminato dai play-off dall'Union Quinto di Treviso. Dal 2010-2011 la guida tecnica è affidata al mister Gianluca Zattarin, alla sua prima esperienza da allenatore. Per la rubrica Buoni esempi calcistici, Forza Azzurri intervista il mister Gianluca Zattarin, prima però doverosi alcuni numeri di presentazione. Gianluca Zattarin è entrato nel mondo del calcio che conta l'età di 17 anni, con la squadra della sua città, il Padova. Poi ha militato nella Triestina, nel Chievo, nel Brescello, nel Pisa, nel Chieti, nel Catanzaro, nel Giulianova, nel Bassano, nella Prosesto e ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2010 con il Poci Bonzi. Senza soluzioni di continuità ha intrapreso nello stesso anno la carriera di allenatore per l'Este, squadra che guida tuttora. Gianluca vuoi raccontarci come è nata questa esperienza da allenatore? Era qualcosa al quale avevi sempre pensato o è nata in maniera così estemporanea? Una scelta così dettata dal caso? No, non è una scelta improvvisata. Già quando giocavo il mio pensiero è quando avrei smesso di giocare di poter cominciare a fare l'allenatore. Sono stato fortunato e ho avuto la fortuna di cominciare subito in una categoria importante che mi hanno dato la possibilità e sono molto soddisfatto di questi cinque anni che alleno. Torniamo proprio alla carriera da calciatore. Al 29 gennaio del 1995 quando affrontavate una fortissima Sampdoria. Sul 4-0 non diciamo per quale squadra. Per la Sampdoria. è un giovane difensore di neanche 20 anni fa gol di testa al portiere della nazionale Walter Zenga. Che cosa ricordi di quel gol? Lo riguardo spesso perché è bella soddisfazione, è bello rivederlo. Mi ricordo che è stato un angolo di crack. Mi sono inserito e l'ho colpita di testa. In quel momento quando la palla entrata non ci credevo. È stata una soddisfazione bella anche perché a 20 anni far gol contro una squadra che aveva 10 nazionali tra cui contro il portiere della nazionale italiana è qualcosa di bello. Non male che poi un'altra soddisfazione è magari a fine partita che ho avuto anche la fortuna di poter scambiare la maglia con Roberto Mancini. Ma tu sei tra l'altro di Padova. Ci vuoi raccontare che cosa può provare un ragazzo di 20 anni a giocare nella Serie A poi per la squadra della sua città? Quindi che emozione doveva essere? Un'emozione grande anche perché giocando in casa sono tanti amici, parenti. Però per me le amicizie sono la cosa più importante anche se fare il profeta in patria non è mai facile. Infatti le soddisfazioni più grandi a livello di calciatore le ho avute sicuramente in altre città. Ma tu che hai giocato a calcio negli anni 90 prevalentemente, adesso hai la fortuna di fare l'allenatore da 5 anni in questa bellissima realtà che è Este. Noti una differenza nell'evoluzione del calcio? Insomma questi ragazzi che affrontano il calcio sono cambiati rispetto alla tua età o pensi che bene o male caratterialmente siano rimasti gli stessi? Secondo me no, anche perché alla nostra età c'erano più valori, c'era più umiltà, c'era più attaccamento alle cose importanti. Adesso sembra che a volte i ragazzi sia tutto dovuto e sono poco umili e soprattutto da questo punto di vista dovrebbero migliorare, questo sì. Quindi tu dici che in pratica negli anni 90 un calciatore della Serie A era più umile di quanto lo possa essere un ragazzo che giochi nella Serie D oggi? Ma sai che cos'è? Anche un ragazzo che magari può arrivare a certi livelli anche in prima vera magari può sentirsi già arrivato e anche un ragazzo di Serie D che magari può avere dei valori importanti e può sentirsi già arrivato. Invece io penso che ci vogliono tanti sacrifici per poter ottenere le cose e magari negli anni 90 i sacrifici erano molti, soprattutto per quanto mi riguarda, facevo molti sacrifici per ottenere le cose. Bene, vogliamo raccontare un po' questo miracolo dell'Est? Sono dieci anni che è in Serie D, ricordiamolo, per una cittadina di poco più di 16.000 abitanti. Ci vuoi raccontare come ti trovi ad Est? e in cosa consiste questo miracolo di questa squadra? Io mi trovo molto bene, mi hanno dato la possibilità di cominciare ad allenare, quindi devo solo ringraziarli. Si parla di persone che sono ambiziose, che fanno dei sacrifici importanti, il presidente Lucchiari, vicepresidente, che sono aiutati da pochi e sono una famiglia e quindi io penso che i risultati sono merito loro, imprendentemente dal gruppo, dagli addetti ai lavori, sono merito loro perché fanno tanti sacrifici per mantenere questa categoria. Ci vuoi ricordare magari come è nato il primo contatto con l'Est? Perché tu giocavi ancora a calcio nel 2010 e improvvisamente ti sei proiettato con ottimi risultati nel mondo del calcio, sempre da allenatore, ma come è nato questo contatto con l'Est? C'era il direttore sportivo Simone Tognon che ha creduto in me, perché indipendentemente dalla società, ha creduto in me, ha dato la possibilità di cominciare ad allenare e sono molto contento perché, come ho detto prima, era una cosa che anche quando giocavo il pensiero era sempre quando smettevo di poter cominciare a fare allenatore. Ho capito. Adesso volevo chiederti anche quest'altra cosa. Sicuramente i tifosi dell'Est si aspettano magari questo salto in avanti. Pensi che la Serie D sia il risultato massimo al quale si possa aspirare o si possa fare qualcosina in più? E se c'è da cambiare qualcosa, che cosa potrebbe essere modificato per poter aspirare alla prossima categoria? L'ambizione di fare sempre qualcosa di importante c'è sempre. È normale che non è facile perché ci vogliono tante risorse economiche e questo è un momento anche difficile. Poi noi, soprattutto quest'anno, siamo in un girone con capoluoghi importanti, con squadre importanti e già stiamo facendo qualcosa di incredibile perché essere lì sotto a Rimini, Piacenza, Delta e Correggese e con un gruppo giovane è già qualcosa di importante. Ti ringrazio. Chiudiamo con la domanda d'obbligo, quella che in realtà riguarda la nostra rubrica ha buoni esempi calcistici. Ritieni che il calcio abbia ancora valori da insegnare e che possa essere in qualche maniera un luogo dove si faccia formazione per i giovani e tutto sommato consiglieresti ai genitori di fare sacrifici per portare i loro figli sui campi da calcio? Sì, consiglierei. L'unica cosa è che i genitori dovrebbero fare i genitori. Devo fare i genitori, pensare anche che per il proprio figlio deve pensare solamente a giocare a calcio, a divertirsi, a imparare delle regole che sono importanti, avere una formazione e non pensare magari di avere un campione già in casa. Sì, penso che tutti i genitori magari quando vanno sul campo da calcio vorrebbero vedere il figlio giocare, per cui immagino che anche voi che avete un bel settore giovanile del resto dovete in qualche maniera lavorare anche con i genitori per fargli capire che tutto sommato il bello del calcio è il divertimento. Si va a giocare a calcio innanzitutto per divertirsi. Sì, questa è la cosa più importante. Però dopo si esagera, si esaspera su certe cose invece dovremmo essere tutti più calmi. Soprattutto anche all'età dei piccoli saper vincere non conta, non saper vincere non conta, ma saper divertirsi è il valore dello sport. Quest'anno avete puntato moltissimo su un calciatore, Bonazzoli, che però in qualche modo non ha pienamente ripagato quelle che erano le vostre aspettative. Ci vuoi dire qualcosa in proposito? Sì, è un ragazzo che noi ci avevamo puntato molto anche per la sua esperienza, soprattutto per fare anche che potesse darci qualcosa di importante sotto tanti aspetti. Sicuramente non è andata bene per lui la stagione, e dispiace perché per noi, e soprattutto per il gruppo stesso, avevamo bisogno di un giocatore come lui, però non è andata bene. Va bene, noi ringraziamo Gianluca Zattarin, come al solito lo invitiamo a gridare un Forza Azzurri. Forza Azzurri, Forza Iguain!